Vediamo Ma si svegnerà il tuo cuore È un libro che racconta la biografia di Vittoria Nenni affettuosamente chiamata dai familiari Viva Una vita giovane spezzata nel campo di sterminio di Auschwitz nel 1943 Una tragedia immane per la famiglia Nenni e per il leader socialista Pietro Nenni che ha prese della morte della figlia solo nel 1945 da Alcide De Gasperi È una biografia che cerca di ricostruire in qualche modo le vicende di Vittoria protagonista della resistenza francese a Parigi impegnata con suo marito nella propaganda antinazista nel 1940-41 subito dopo l'occupazione da parte delle truppe tedesche della Francia È un libro che cerca di ricostruire i momenti in cui Vittoria assieme ad altre compagne francesi si impegna in maniera decisa contro l'occupazione tedesca fino poi a pagare questo suo contributo, questo suo impegno con la vita ma si sveglierà il tuo cuore